Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio dove il tempo è in via di miglioramento. Il dettaglio di mercoledì 25 gennaio. Sul Veneto al mattino cielo nuvoloso e saranno possibili ancora delle precipitazioni sparse. In seguito diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Permane un marcato pericolo di valanghe sulle dolomiti, ma anche sulle prealpi. Temperature stazionarie, minimetralo 0 e 3 gradi, massima invece tra i 7 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo qualche residuo a pioggia inizialmente. Anche in questo caso poi con il passare delle ore sarà più soleggiato il cielo sereno. Bora moderata sulla costa. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 9 e 10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove avremo molte nubi di mattina, poi in giornata ampie schiarite. Temperature minime sui 2 e 3 gradi, massime intorno agli 8 e 10 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, buon proseguimento con Antenna 3. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Scarica l'app.